A Palermo è ormai certo, sulla panchina del Pescara troverà posto un nuovo allenatore, il terzo di questa travagliata stagione. In queste ore la società sta riflettendo sul successore di Massimo Epifani e corsa soprattutto a due con gli ex milanisti Nesta e Brocchi favoriti. Una scelta non facile dopo i dinieghi di De Biasi e Stellone, più defilati i nomi di Pillon, Iaconi, Silva e Mandorlini. Il presidente Sebastiani ha poi smentito per l'ennesima volta un eventuale ritorno a Pescara di Zeman. È chiaro che se un allenatore convocato non si presenta, anche per rispetto dei giocatori e di chi invece si è presentato, mi sembrava il minimo che una società potesse fare, se no vuol dire diventiamo il palo della cuccagna e qua non è possibile. Quindi su quello non si torna indietro? Ma noi in questo momento, siccome stiamo valutando delle cose nostre, in questo momento particolare l'allenatore è l'ultimo dei problemi. Bisognerà però fare in fretta perché fra una settimana c'è il match del Barbera. Domani intanto, giorno di Pasqua, la squadra si allenerà nel pomeriggio al Poggio degli Ulivi. Se dovessimo arrivare a una decisione la prendiamo in maniera tale che a rientro si possa ricominciare a lavorare già con la decisione presa. Se non dovessimo prendere la decisione vuol dire si va avanti così. Il patrone biancazzurro ha poi voluto comunque sottolineare il lavoro portato avanti nell'ultimo mese da Massimo Epifani, che secondo il presidente del Delfino ha dovuto fare i conti, soprattutto con la sfortuna. Massimo è dispiaciuto perché è pescarese e quindi questa maglia ce l'ha attaccata la pelle, e quindi sicuramente immaginava dei risultati diversi in questi cinque incontri che ha giocato. Sicuramente è stato molto sfortunato Massimo perché in almeno quattro di queste partite poteva raccogliere di più.